Buongiorno a tutti, 16 novembre, ritorniamo con il nostro appuntamento dedicato al Portafoglio a Piazza Affari, ai titoli italiani, all'interno della rubrica del servizio P-Trading che va ad operare long e short sulle azioni italiane Buongiorno a tutti, Pietro Liglia per Investire.biz, oggi andiamo a parlare del titolo Media for Europe oggi giornata che vede la società comunicare i dati dei primi nove mesi del 2022 però come nostra abitudine prima facciamo una veloce panoramica di quello che sta succedendo a Piazza Affari che dopo 8 sedute consecutive al rialzo, 23 sedute positive nelle ultime 26, rallenta la sua corsa e arriva dopo metà seduta in territorio negativo e l'abbiamo detto più volte una fase correttiva servirebbe per scaricare indicatori che nel breve sono arrivati in area di forte eccesso e quindi a discese anche fin verso 23.100, 23.400 non cambierebbero la view rialzista che si è innescata nell'ottobre di quest'anno, il 13 ottobre, il giorno in cui uscì l'inflazione americana ma ora andiamo a vedere il titolo Media for Europe e oggi dicevamo dati importanti, dati che arrivano dalla società per quanto riguarda i primi nove mesi gli highlight li stiamo vedendo sullo sfondo in un contesto ricordiamoci sempre difficile, volatile che sta caratterizzando il 2022, la società, l'azienda appunto televisiva che opera in Italia e Spagna ha dato numeri positivi però sono numeri in rallentamento rispetto agli stessi che si erano avuti nel 2021 e andiamo velocemente a vederli perché i ricavi passano dagli 1,99 miliardi di 12 mesi fa agli attuali 1,9 miliardi la parte di Leone la fa l'Italia con 1,31 milioni e la restante parte la Spagna i ricavi sono in contrazione e per quanto riguarda il risultato operativo anche questo indeciso calo perché passa dai 275 milioni dello stesso periodo quindi gennaio-settembre del 2021 agli attuali 97,6 milioni per quanto riguarda l'EBIT mentre il risultato netto consolidato che era quasi 274 milioni nel 2021 ma aveva una plusvalenza questo risultato di quasi 87 milioni per la gestione di TowerTel si attesta a 78,5 togliendo gli 86 milioni della plusvalenza ai 283 risulta sempre una performance in deciso calo rispetto a quello che abbiamo visto appunto nello scorso anno l'indibitamento rimane sui valori praticamente nello scorso anno mentre il free cash flow è in discesa dai 423 milioni ai 359 milioni attuali la società per quanto riguarda l'Outlook vede l'ultimo trimestre in rallentamento rispetto a quello che si è visto nei trimestri precedenti in particolar modo perché ci sono i mondiali di calcio in Qatar che sono esclusivi della RAI quindi questo può andare ad impattare sulla visione appunto di Mediaset in Italia che in Spagna andiamo ora a vedere quello che sta succedendo sul titolo perché dicevamo è una giornata negativa oltre il 2% di perdite e quella giornata negativa è questa fase di debolezza che si è innescata diciamo nella giornata di lunedì con questo ops ribassista apertura in che pappa a favore di trend chiusura del gap chiusura di giornata sotto i massimi della seduta precedente e questa fase correttiva potrebbe riportare i prezzi a contatto con i primi supporti area 0,3550 0,3570 questi sono i livelli da monitorare perché in caso di rottura potrebbero aprirsi spazi al ribasso più importanti quindi apertura di posizioni short che potremmo mettere in campo con primi target alla media mobile a 50 giorni e livello del super trend giornaliero 0,3450 ma a proseguire potremmo dirigerci verso area 0,31 0,3150 andando anche a rompere questa trend line che sale dai minimi del mese di settembre al contrario per mettere in campo un'operazione long un'operazione rialzista aspetterei il superamento delle prime resistenze i top che abbiamo toccato durante quest'ottava 0,39 oltre i quali ci sono target ambiziosi perché avremo un target a 0,40 una prosecuzione verso i top di settembre 0,43 ma credo che il titolo nel caso in cui ci fosse il superamento anche degli 0,43 aprirebbe le porte per un ritorno verso i top del mese d'agosto area 0,46 0,4650 sarà solo oltre quei livelli che il titolo inizierebbe a mettere in un angolo quella forte fase correttiva che si è innescata ad fine 2021 quanti prezzi vi alleggiavano oltre area 1,13 quindi ribadiamo operazione short con la rottura dei primi supporti area 0,3550 0,3570 operazione long oltre i top della settimana 0,39 ricordo che è possibile andare e seguire la nostra operatività sull'azione italiana e sul mercato italiano abbonandosi al servizio P-Trading nel sito di investire.biz nella sezione appunto servizi troverete il servizio di cui stiamo parlando trading long e short sulle azioni italiane basta cliccarlo all'interno vi viene spiegato come funziona il servizio con la mail di apertura di inizio giornata con il commento appunto di come si sta per aprire il mercato azionario europeo ma in particolar modo piazza affari la mail di metà giornata dove vengono aggiornati i titoli o gli stop è all'interno del nostro portafoglio il video commento che facciamo insieme agli abbonati a fine giornata e poi ricordiamoci che chi si abbona entra all'interno di un canale telegram privato è lì che riceve anche via mail i segnali operativi long o short a seconda del caso nella parte destra la possibilità di abbonarsi trimestralmente, semestralmente e annualmente e poi cosa anche importante le performance dal 2014 ad oggi performance mensili in fondo performance annuali ricordiamoci che abbiamo chiuso il mese d'ottobre con una performance importante dell'8,39% detto questo, l'appuntamento è ora a venerdì ritorneremo ancora una volta a parlare di Italia di azioni italiane con il servizio appunto P-Trading chi lo volesse, lo ricordo ancora una volta può abbonarsi al servizio di cui abbiamo parlato fino ad ora con questo è tutto e vi auguro buona giornata e a venerdì e vi auguro buona giornata e vi auguro buona giornata